buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura di coppia per il segno dell'ariete valida per i primi 15 giorni del mese di ottobre è una lettura generica quindi se non risuona con tutti potete guardare le letture del vostro scendente o della vostra luna se volete invece una lettura privata o volete informazioni sui corsi per leggere i tarocchi o su analisi karmica o sessioni di coaching inviatemi un email a voci dagliangeli chiocciolagmail.com quelli che già mi seguono da un po potranno notare come questa stesa oggi è un po più complessa o più completa il motivo per cui ho deciso di ampliare di aggiungere più carte è per innanzitutto dare a voi che ascoltate le letture generiche più informazioni possibili e quindi più dettagli ma in particolar modo perché molti dei miei studenti so che studiano le letture generiche soprattutto quelli che stanno completando il livello professionalizzante studiano le letture generiche e il modo in cui le faccio per essere in grado di riprodurle dunque ecco che oggi proprio per sfidare i miei studenti ho complicato un po tutto e vediamo che cosa mi diranno dopo questa allora stiamo parlando delle prima della prima parte del mese di ottobre l'energia generale della coppia per il segno della riete è quella del 4 di denari rovesciato associato a questa carta simbolo spero che la vediate studenti vedete dunque questo 4 di denari rovesciato ci fa pensare ovviamente ad una chiusura emotiva a un'incapacità di aprire il chakra del cuore perché il 4 di denari sappiamo che è associato al chakra del cuore e che rappresenta l'incapacità di far fluire l'energia nel modo corretto e ottimale all'interno di questo chakra quindi rappresenta un po la a volte rappresenta la gelosia altre volte rappresenta l'incapacità di dare di essere generosi altre volte ancora invece rappresenta semplicemente la chiusura e quindi un una chiusura in se stessi e infatti in questo caso associata a questa carta simbolo questa carta il 4 di denari rovesciato rappresenta proprio una chiusura in se stessi e un focalizzarsi su se stessi un guardare i propri bisogni un guardare se prima degli altri e mettere se al primo posto a volte questa può essere una scelta molto saggia in altri casi può essere una scelta molto sbagliata dipende ovviamente dai casi come riconoscere quando è giusto farlo beh semplicemente è giusto farlo quando gli altri lo fanno con noi mi viene da dire ovvero quando siamo sempre noi quelli buoni bravi e disponibili ma gli altri non ricambiano mai i nostri doni e in quel caso per creare equilibrio con se stessi e con gli altri è meglio chiudersi e focalizzarsi su se stessi e invece è sbagliato farlo quando siamo abituati a pensare a noi stessi quando diventa una routine quando abbiamo qualcuno che pensa a noi ma noi non ricambiamo ad ogni modo di queste dinamiche non mi piace usare i termini giusto sbagliato voi lo sapete perché sono molto relativi alla propria percezione ma comunque di queste dinamiche ne parliamo approfonditamente nei corsi quindi ecco miei cari studenti voi sapete che dovete guardare tutto sotto una prospettiva più ampia rispetto a quella di giusto e sbagliato perché solo così si può davvero comprendere e vedere la realtà per quello che è ma adesso andiamo più a vedere le singole colonne nelle quali siete rappresentati voi e il vostro partner in una colonna troverete voi stessi del segno della riete nell'altra colonna troverete il vostro partner quale delle due colonne però è la vostra e quale è quella del vostro partner lo capirete man mano che leggerò perché a volte le colonne si invertono quindi ecco l'energia si focalizza in una colonna o nell'altra saprete voi qual è la vostra la persona che si trova su questa colonna si sente come un mago rovesciato è ciò che prova per il partner e il re di bastoni dunque si sente come un mago rovesciato perché in realtà ha la sensazione di non essere capace di gestire la situazione come vorrebbe nel modo migliore nel modo ottimale sente di non avere tutti gli strumenti tutte le armi nelle mani per poter creare per poter generare quel nucleo familiare felice che tanto desidera manca ovviamente qualcosa e non si tratta di capacità ma si tratta semplicemente di gestire tutto nel modo migliore il fatto di non essere capaci è solo un problema percepito invece il fatto di non avere gli strumenti a volte è un problema reale ed ecco che in quel caso bisogna lavorare sul crearsi questi strumenti trovare il coraggio perché il coraggio è uno strumento trovare la pazienza anche la pazienza è uno strumento trovare la volontà anche la volontà è uno strumento ma comunque ciò che questa persona prova per il proprio partner è un re di bastoni quindi nonostante tutto questa persona ha molta fiducia nella relazione e nel proprio partner sa quanto è forte il legame c'è anche un una forte attrazione fisica per molti di voi quindi c'è il piacere fisico di stare con il proprio partner e in certi momenti c'è anche una idealizzazione ovvero questa persona tende a vedere la parte migliore del proprio partner e questa è una cosa che spesso fa anche bene alla coppia se non è estremizzata cosa vorrebbe un sei di coppe ovvero vorrebbe che il proprio partner si rendesse conto di questo legame che si accorgesse di quanto è profondo a livello energetico questo legame anche perché il sei di coppe è la carta delle anime gemelle quindi è quella che sta proprio ad indicare il legame karmico energetico quei legami che si sentono a pelle fin dal primo istante anche prima di conoscere realmente una persona a primo impatto ad ogni modo c'è anche un po un senso di nostalgia per dei momenti per dei periodi particolarmente belli passati insieme quindi ecco questa persona vorrebbe un po rivivere quei momenti spensierati e belli nei quali si ci poteva comportare da bambini ingenui e cosa vorrebbe appunto vorrebbe un vorrebbe che l'altro rivedesse le cose nello stesso modo che rivedesse questo questa forza queste questa forza nelle emozioni e nel legame cosa questa persona fa come reagisce è un cavaliere di denari quindi ecco nelle proprie profonde convinzioni questa persona tira avanti e cerca di offrire quello che ha la concretezza la materialità la stabilità cerca di dare tutto quello che può all'altro per rendere le cose più scorrevoli per quanto siano lente per quanto magari voi della riete state state affrontando una lentezza nelle cose però è anche vero che comunque comunque andate piano ma andate e andate in maniera molto solida e la persona che si trova su questa colonna è veramente qualcuno che vuole costruire e che lo fa con serie intenzioni qual è il segreto di questa persona o le cose non dette da parte di questa persona interessante sembra che questa persona si sia accorta che qualcosa non va sembra che questa persona abbia scoperto qualcosa relativamente al proprio partner e nonostante questo sia ancora disposta ad accoglierlo ad accettarlo e ad andare avanti questa persona sta riconoscendo o le proprie debolezze ecco ci sono due opzioni o le proprie debolezze o le debolezze del proprio partner ad ogni modo è notevole il lavoro personale il lavoro mentale ed emotivo che questa persona sta facendo e l'impegno che sta mettendo nel far funzionare le cose e anche la devozione mi viene da dire per certi di voi comunque sì c'è un qualcosa che è stato scoperto qualcosa che è stato smascherato non è chiaro se sia su questa o sull'altra persona invece chi sta su questa colonna è qualcuno che si sente come un set di bastoni rovesciato ovvero che sta pensando troppo qualcuno che pensa pensa e ripensa prima di agire qualcuno che fa strategie qualcuno che fa piani che pianifica che cerca di capire cosa fare come farlo nel modo migliore e sì pensa troppo sicuramente pensa troppo cosa questa persona prova per il proprio partner la regina di spade rovesciata la regina di spade rovesciata che rappresenta qualcuno che si lascia andare alle parole e alle emozioni e ai pensieri senza riflettere più di tanto qualcuno che dice le cose in maniera molto diretta forse fin troppo diretta perché questa persona sta pensando molto su come agire sta facendo strategie ma non si sta preoccupando del modo in cui si esprime non si sta preoccupando del modo in cui parla anche perché pensa di avere ragione deve essere accaduto qualcosa che provoca in questa persona un senso di magari anche della rabbia e che porta questa persona ad esprimersi in una maniera molto dura ma nella convinzione di avere ragione cosa vorrebbe questa persona il cavaliere di spade e sì questa persona vorrebbe proprio poter buttare fuori tutto e vorrebbe anche allora devo essere più precisa questa persona vorrebbe buttare fuori tutto e vorrebbe anche una bella litigata di quelle liberatorie e vorrebbe sentire che tramite queste parole tramite questi pensieri può manifestare il suo potere sul proprio partner che ha sbagliato ma in realtà questa regina di spade rovesciata mentre per qualcuno di voi rappresenta proprio come ho detto il parlare senza riflettere troppo e magari a volte ferendo anche l'altro per qualcun altro invece rappresenta lo stare zitti trattenere perché c'è un desiderio di dire ma che per qualcuno di voi è trattenuto e questo trattenere dipende dal fatto che voi pensate che state facendo la cosa giusta nel trattenere perché prima questa persona sta pensando di fare la cosa giusta nel trattenere perché prima vuole riflettere bene su cosa dire cosa fa e come reagisce abbiamo un 5 di bastoni ed ecco che subentra il terzo incomodo o comunque per qualcuno di voi non per tutti ovviamente c'è qualcun altro coinvolto perché questa persona forse delusa forse arrabbiata si sta anche rivolgendo al di fuori e sta e si sta guardando attorno cercando a cercando modi per distrarsi cercando modi per svagarsi e e cosa non dice un 6 di denari allora ecco ritorniamo a questa distinzione mentre per qualcuno di voi questa persona si sta rivolgendo al di fuori della coppia cercando altro pensando ad altro e c'è un'altra persona in particolare vedo un'altra persona in particolare tra l'altro è qualcuno di lunga data ovvero è qualcosa che va avanti da un bel po di tempo c'è questo scambio con un'altra persona che sia un altro uomo un'altra donna c'è questo scambio con un'altra persona per qualcun altro di voi invece questa persona crea liti perché ciò che riesce a fare tutto ciò che riesce a fare è creare scompiglio nella coppia anche per fare sentire l'altro in colpa perché c'è un forte desiderio di manipolare l'altro c'è un forte desiderio di farlo sentire in colpa e c'è questo questo scambio comunque questa ricerca di qualcos'altro quindi mentre per qualcuno c'è qualcun altro per qualcun altro invece si tratta di una ricerca di qualcos'altro sto cercando anche un'altra alternativa perché non tutti voi hanno altre persone coinvolte quindi ecco che questo sei di denari potrebbe rappresentare la pazienza per qualcun altro la pazienza nella ricerca dell'equilibrio sì nella ricerca dell'equilibrio vediamo gli angeli cosa hanno da dire è l'arcangelo gabriele che parla e vi dice che è tempo di rendervi conto di ciò che di bello avete e di guardare l'abbondanza l'abbondanza che siete riusciti a creare per voi a seguito anche del duro lavoro dell'impegno che avete messo nella relazione o nella vita e il consiglio è quello di lasciare andare delle situazioni che invece sono sul al confine fra il al confine fra il tossico e il e ciò che provoca sofferenza e si tratta veramente di un consiglio un consiglio dato soprattutto a quelli di voi che stanno particolarmente male e che stanno male da tempo che in realtà è proprio quello di guardare ciò che avete di bello in voi stessi di quello che voi avete acquisito e vi siete guadagnati anche non solo dal punto di vista materiale fisico ma anche da un punto di vista emotivo perché siete cresciuti perché la vostra anima ha fatto dei progressi e di lasciare andare ciò che ormai veramente è semplicemente tossico e non che siano atteggiamenti o che siano persone poco importa è una lettura generica il consiglio è veramente lasci andare focalizzati sul buono ad ogni modo per avere una lettura generica potete inviare un email a voci dagli scusate per avere una lettura privata potete inviare un email a voci dagli angeli chiocciola gmail.com altrimenti ci vediamo alla prossima